Tra anticipo della perequazione tredicesima, quattordicesima e bonus 155 euro, alcuni pensionati troveranno a dicembre la pensione più sostanziosa dell'anno. La conferma arriva direttamente da IMSS che ci fa sapere di aver completato tutti i calcoli per le pensioni di dicembre. Con il messaggio numero 4050 del 15 novembre, IMSS riassume tutti i conti che ha fatto per le pensioni di dicembre e che i pensionati potranno controllare tramite il loro cedolino della pensione, più o meno dal 20 di novembre, o direttamente con il pagamento da venerdì primo dicembre. Ma andiamo con ordine. Per prima cosa la novità, per così dire, è l'anticipo della perequazione, cioè il celebre scarto dello 0,8% tra l'inflazione provvisoria e quella definitiva dello scorso anno. In teoria, questo conguaglio sarebbe dovuto arrivare a gennaio 2024, ma dopo una serie di vicissitudini il decreto anticipi lo ha anticipato a dicembre 2023. In sostanza, questo conguaglio spetta per tutti i mesi di pensione del 2023, perciò avremo la pensione già conguagliata per dicembre e per la tredicesima, più gli arretrati per i mesi da gennaio a novembre. Però attenzione perché questo 0,8% è all'ordo per le pensioni che sono soggette a IRPEF, cioè quelle che effettivamente fanno reddito. Inoltre si tratta di una percentuale che va parametrata sulle varie fasce di perequazione. I valori che IMSS riporta nelle tabelle del suo messaggio sono sostanzialmente gli stessi che vi avevamo fatto vedere qualche tempo fa. Per fare un esempio, l'importo definitivo dell'invalidità civile per il 2023 senza maggiorazioni sarà di 316 euro, che quindi arriveranno come rata di dicembre con circa 25 euro di arretrati. A parità di condizioni, per l'assegno sociale l'importo definitivo massimo per il 2023, cioè la rata di dicembre, sarà di 507 euro circa, a cui spettano circa 41 euro di arretrati. L'importo del trattamento minimo, che viene usato anche come riferimento per altre prestazioni, arriva a 567,93 euro. Come arretrati, sia per gli over che per gli under 75, ci sarà circa una cinquantina di euro. Per una pensione di circa 1000 euro ci sarà circa un'ottantina di euro di arretrati e così via. Poi il messaggio IMS aggiunge anche che circa 346.000 pensionati riceveranno anche l'importo aggiuntivo delle pensioni al minimo, chiamato anche bonus tredicesimo o bonus 155 euro. Brevemente ricordo che si tratta di letteralmente un importo aggiuntivo che spetta a quei pensionati con pensioni previdenziali o comunque lavorative, che sono più basse del trattamento minimo e hanno redditi particolarmente bassi, sia da soli che coniugati. Quindi non spetta a chi riceve trattamenti di natura assistenziale come ad esempio l'assegno sociale o l'assegno mensile di invalidità civile. Infine, il messaggio IMS ricorda anche che circa 150.000 pensionati in Italia riceveranno a dicembre la quattordicesima di pensione, si tratta in maniera particolare di quei pensionati con pensioni previdenziali o comunque lavorative che rientrano nei requisiti reddituali previsti, ma che hanno raggiunto i 64 anni dopo luglio oppure sono andati in pensione proprio da quest'anno. Per maggiori dettagli su ognuna di queste misure rimando ai singoli approfondimenti che abbiamo realizzato in passato. Ti ringrazio per aver guardato fin qui, sono Gianluca di Radio Uci e al prossimo aggiornamento. Ciao!